coronavirus non rallenta la curva dei contagi in tutta Italia ma il Molise è tra le regioni virtuose con la variazione quotidiana più bassa si va verso l'uso della mascherina per tutti stasera redder azionem tra governatori e governo sulla limitazione dei poteri a Toro il sindaco riapre parzialmente le scuole l'infanzia resta chiusa la squadra mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Mazzaccaro considerato il mandante dell'omicidio di Luca Megali barbiere venafrano che aveva scelto di vivere e lavorare in campagna fu freddato nel suo salone sei anni fa per una vendetta trasversale anche per i pentiti l'artigiano era estraneo al mondo della criminalità organizzata il broker molisano Gianluigi Torzi indagato dalla procura di Milano al centro dell'inchiesta il palazzo di Londra venduto al Vaticano maltempo allerta gialla in Molise tragedia sfiorata a capobasso per un cornicione di un palazzo che è divelto dal vento e finito sulle macchine in sosta il 100 per cento del territorio molisano è a rischio idrogeologico nella legge semplificazioni attenzione impegno concreto per i piccoli comuni Federico del Movimento 5 Stelle fondi certi e meno burocrazia. Infine lo sport con il calcio di serie D è il tecnico del campo basso Mirko Cudini che coccola vittorio esposito si è calato nella parte ce lo teniamo stretto lupo al lavoro per sbancare Castelfidardo basto girardi prosperi ci godiamo i quattro punti in classifica e pensiamo al prossimo match. Buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti voi ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione lo avete sentito nei titoli in apertura ci occupiamo della marcia del covid che non rallenta in tutta Italia però nella mappa del paese il Molise è tra le quattro realtà territoriali con la variazione quotidiana dei contagi più bassa si va però verso l'obbligo della mascherina ovunque e per chiunque ma questa sera alle 18 è atteso però l'incontro scontro tra governo e regioni perché nelle nuove disposizioni è prevista anche una limitazione dei poteri ai governatori e dunque si l'esito il bilancio di quello che accadrà ovviamente ve ne daremo conto questa sera le 19 e 30 ma intanto ascoltiamo il servizio. Soltanto questione di ore il presidente del consiglio dei ministri si appresterà a firmare il nuovo dpcm unica certezza l'obbligo di mascherine per tutti e ovunque anche all'aperto e sono già iniziati i controlli molti esercizi commerciali del Molise da parte delle autorità preposte per sensibilizzare al rispetto delle regole perché l'altro punto fermo previsto nel prossimo documento conte riguarda le multe per chi non indossa la mascherina con una sanzione da 400 fino a 1000 euro idem per coloro che non fanno rispettare l'obbligo all'interno dei propri locali. Più controlli antimovida poi polizia carabinieri guardia di finanza e vigili urbani si accerteranno tutte le sere che davanti ai locali non si creino assembramenti e che siano sempre indossati i dispositivi obbligatori. Un inasprimento che ci riguarderà perché la marcia dei contagi in Italia non rallenta. Cresce il numero delle infezioni da SARS-CoV-2 anche a fronte di un notevole aumento del numero dei tamponi processati. Nella mappa del paese tuttavia il Molise assieme alla Calabria, alla provincia autonoma di Bolzano e alla Valle d'Aosta è tra le regioni con la variazione di contagi più bassa compresa tra 1 e 25. Nel resto d'Italia si viaggia con variazioni che superano i 70 contagi giornalieri. Le regioni con più casi positivi nuovi restano la Campania seguita dalla Lombardia e dal Lazio. Nella bozza del decreto anticipata ieri è prevista anche una limitazione al potere dei governatori e molti per questo sono già pronti a dare battaglia. Questa sera alle 18 infatti è previsto l'incontro tra governo e regioni che potrebbe trasformarsi in realtà in uno scontro. A rappresentare il governo ci saranno il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e quello della salute Roberto Speranza. Dunque toccherà a loro trovare un compromesso per scongiurare la rottura. E a proposito di covid positiva solo una persona rientrata a San Martino in Pensilis da fuori regione. Cittadino di Termoli ricoverato in malattie infettive. 420 i tamponi processati negativi quelli eseguiti sui bambini e sui docenti delle scuole di Toro. Questo è in sintesi il bilancio. Il servizio però è di Pierluigi Boraggine. Il coronavirus concede una tregua, un solo tampone positivo tra i 420 processati nelle ultime ore. Contagiata una persona rientrata a San Martino in Pensilis da fuori regione. Sempre San Martino fa registrare un guarito mentre salgono a quattro i pazienti del reparto di malattie infettive dopo il ricovero di una persona di Termoli. I casi attualmente positivi sono 143, 117 i asintomatici a domicilio, 246 i soggetti in isolamento. Buone notizie arrivano anche da Toro dove il sindaco nei giorni scorsi a seguito di alcuni casi di positività in paese e in ambito scolastico aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Su Facebook Roberto Quercio rende noto che i tamponi di tutti i bambini delle scuole dell'infanzia, tutti quelli che usufruiscono del servizio scuolabus anche per primaria e secondaria, del personale del servizio scuolabus e di accompagnamento dei docenti della scuola dell'infanzia e del personale ATA sono fortunatamente negativi. Il sindaco aggiunge che anche il tampone al quale si è sottoposto lui stesso è negativo. La notizia ci riempie il cuore di gioia, ferma e ci solleva dalle preoccupazioni di questi giorni. Al momento manca solo il risultato di un tampone della scuola dell'infanzia che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Abbiamo sperimentato, conclude quanto sia delicato affrontare una situazione all'apparenza molto pericolosa. Adesso facciamone tesoro. E allora, l'avete sentito dal servizio, a Toro sono negativi tamponi su alunni e docenti. Il sindaco Roberto Quercio nell'escorsione ha firmato l'ordinanza di riapertura parziale però delle scuole. Da domani torneranno a suonare regolarmente le campanelle per la primaria e la secondaria di primo grado. I plessi scolastici e lo scuolabus saranno sanificati. Si riparte in piena sicurezza, ha annunciato su Facebook il primo cittadino. La scuola dell'infanzia invece resta sotto sorveglianza sanitaria dell'ASREM per scongiurare ulteriori problemi. Quercio ha spiegato che i lavori di sanificazione dell'infanzia sono in corso, così appena arriverà l'ok dell'azienda sanitaria regionale anche i più piccoli potranno tornare in aula. Ed ora la cronaca. La squadra mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Mazzaccaro, considerato il mandante dell'omicidio di Luca Megali, barbiere venafrano che aveva scelto di vivere e lavorare a Napoli. Luca Megali era un barbiere di soli 28 anni, ucciso nel suo salone a pianura la sera del 6 novembre del 2014. Alzava la saracinesca alle 8 del mattino, per chiudere poi l'attività le 22. Un lavoratore onesto, estraneo al mondo della criminalità organizzata, come del resto confermeranno ai magistrati anche diversi collaboratori di giustizia. Pur essendo nato a Benafro, aveva scelto di vivere e lavorare a Napoli. Il killer entrò nel suo locale simulando una rapina. Il barbiere cercò rifugio sotto al bancone della cassa, ma fu raggiunto e freddato da quattro colpi di pistola. Per quella esecuzione, la squadra mobile, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, ha tratto in arresto Giuseppe Mazzaccaro, classe 79, ritenuto il mandante dell'omicidio e considerato dagli inquirenti elemento di spicco della cosiddetta zona 99 nel rione Traiano. Mazzaccaro è anche il cognato di Alfredo Sorianiello dell'omonimo clan. In base a quanto emerso dalle indagini, il delitto si sarebbe consumato nell'ambito della guerra di Camorra che opponeva i Sorianiello al clan Tommaselli, l'unica colpa di Luca Megali essere il fratello di un uomo considerato, affiliato al clan Tommaselli. Dunque il barbiere è stato ucciso per una vendetta trasversale, forse per vendicare la morte del figlio di Sorianiello. La giustizia è arrivata a distanza di sei anni. Dopo la rogatoria del Vaticano sulla compravendita del Palazzo di Londra con i fondi di San Pietro, anche la Procura di Milano indaga sul ruolo del broker molisano Gianluigi Torzi nell'affare. Anche la Procura di Milano vuol vederci chiaro. A luglio ha aperto un fascicolo sul ruolo del broker molisano Gianluigi Torzi nell'affare dell'ex magazzino Errozza a Londra, acquistato dal Vaticano con un'operazione lunga e pericolosa in cui le finanze della Santa Sede hanno perso milioni di euro. I magistrati milanesi hanno risposto alla rogatoria dei PM di Papa Francesco, ora indagano direttamente sulla vicenda. A convincere la Segreteria di Stato, in cui all'epoca plenipotenziario era il di fatto ex cardinale Giovanni Becciu, il finanziere mincione. Nel 2018 al suo fondo Atena finirono 40 milioni dalle casse vaticane perché uscisse dall'affare. Quando la Santa Sede pensava di essere diventata unica proprietaria dell'immobile di Slonevenio spuntano però 30.000 azioni della Gut S.A. di Gianluigi Torzi, 1.000 azioni con diritto di voto. Torzi allora chiede 30 milioni per uscire a sua volta dall'affare, ne ottiene 15. Arrestato a inizio giugno dalla gendarmeria, il broker molisano collabora con gli inquirenti della Santa Sede e qualche settimana fa il colpo di scena, il pontefice dimissiona il cardinale Becciu. Su questa speculazione immobiliare, compiuta con i fondi dei poveri e sugli intermediari, ora indagano pure gli inquirenti italiani. Ed ora parliamo del maltempo. Da questa mattina vento forte e pioggia. C'è l'allerta gialla sul Molise almeno fino alle prime ore di domani. Trombe d'aria, dicevamo, pioggia forte un po' ovunque. Le raffiche questa mattina hanno rivelto il cornicione di un palazzo causato la caduta di calcinacci sulle macchine in sosta. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per disciplinare il traffico andato in tilt. Alberi sradicati, rami pericolanti, cornicioni che hanno ceduto alla forza del vento, calcinacci che hanno colpito auto in sosta. Sono gli interventi che hanno segnato un'intera mattinata di maltempo che ha colpito la città di Campobasso e alcuni centri dell'Interland, provocando disagi e danni un po' ovunque. È stato un cornicione di velto dal vento e interi pezzi di intonaco della stessa palazzina che hanno tenuto impegnati gli uomini del comando provinciale di via Sant'Antonio dei Lazzari, insieme alle pattuglie della municipale in via Erculania, nel capoluogo. L'allarme è lanciato da alcuni passanti, poi l'intervento per impedire conseguenze più serie, soprattutto ai pedoni. Durante le operazioni ovviamente il traffico ha subito notevoli rallentamenti, ci sono volute un paio d'ore per mettere in sicurezza la zona. Il vento forte ha causato anche il cedimento di alcuni rami precipitati lungo le carreggiate per lo più nelle strade interpoderali. La protezione civile ha diramato nelle scorse ore un'allerta gialla per il Molise. L'impulso in arrivo dal mare del nord ci riguarderà infatti con precipitazioni sparse anche temporalesche e un sostanziale rinforzo della ventilazione almeno fino a domani. Quindi l'avviso prevede venti da forti a burrasca da quadranti occidentali su Molise, Emilia Romagna, Toscana, Marche Umbria, Lazio e Abruzzo, in estensione in Puglia e Basilicata e in particolare sui settori tirrenici ed appenninici. Il 100% del territorio molisano è a rischio idrogeologico. Nella legge, semplificazioni, attenzione e impegno concreto per i piccoli comuni. L'onorevole Antonio Federico del Movimento 5 Stelle parla di fondi certi e dice meno burocrazia. In Italia quasi l'80% del territorio è a rischio idrogeologico. In Molise la percentuale sale al 100%. Sull'argomento interviene Antonio Federico. Il deputato del Movimento 5 Stelle si schiera al fianco dei piccoli comuni che vanno sostenuti con fondi che andrebbero erogati velocemente per permettere interventi puntuali e circostanziati. Per questo, spiega, sono fondamentali le norme di tutela contenute nella legge semplificazioni che prevede risorse certe, meno burocrazia e interventi rapidi nelle zone più colpite. La semplificazione va incontro ai piccoli comuni che non riescono a realizzare progetti cantierabili per la tutela del territorio, magari per carenza di personale o magari per carenza di fondi. Con la delibera cipia, aggiunge Federico, abbiamo permesso ai comuni che non riescono ad affrontare questa mole di lavoro di avvalersi di società in aus del Ministero. Anche per le progettazioni esecutive le risorse disponibili sono superiori a 7 miliardi. Quello che è successo in Piemonte e in Luguria in questi giorni ha dovuto far riflettere un po' tutti perché la fragilità del nostro territorio, del nostro suolo è evidente, è una cosa nota e ha avuto un ulteriore esempio quello in questi giorni. Anche il Molise non è immune da tutto questo e lo sappiamo perché praticamente tutto il territorio regionale è soggetto a rischio idrogeologico e tanti sono gli interventi che sono posti in essere dai vari enti riposti a partire anche dal commissario regionale. Il punto è che spesso e volentieri alcuni interventi rimangono fermi anche se sono finanziati perché ricada nei piccoli comuni la necessità di dover affrontare le spese della progettazione e di messa in sicurezza del territorio perché spesso proprio nei piccoli comuni ci sono quelle aree in cui avvengono questi dissesti. Con il decreto semplificazione e anche l'impegno del Ministero dell'Ambiente e del Ministro Costa si vuole dare supporto a questi comuni. L'Inps avvisa tutti i suoi utenti di fare attenzione ad una nuova mail di phishing che utilizza il nome di Inps per ingannare il destinatario del messaggio e indurlo ad aprire un file allegato XLS contenente un agente virale. L'oggetto della mail con il nome dell'allegato può variare per cui si invita a diffidare da queste comunicazioni ignorando mail di cui non è possibile accertare l'origine soprattutto quando richiedono l'apertura di un allegato o il click su un link e a non aprire allegati dei quali non si è certi della provenienza. Nulle le multe elevate nei confronti dei diversamente abili che hanno parcheggiato sulle strisce blu a Isernia. Lo ha stabilito una sentenza del giudice di pace condannato al pagamento delle spese il Comune. Per la settima volta su sette ricorsi presentati il giudice di pace ha accolto le stanze degli automobilisti contro le strisce blu condannando il Comune di Isernia al pagamento delle spese ed annullando le sanzioni elevate. Questa volta però la sentenza è ancora più importante perché riguarda la permanenza delle auto dei disabili negli stalli a pagamento. Abbiamo vinto le cause riguardanti le strisce blu a Isernia che sono state dichiarate illegittime anche dal giudice di pace. Noi lo avevamo rappresentato a suo tempo al Comune e al Prefetto però non siamo stati ascoltati. Il sindaco è andato avanti con questa storia delle strisce blu che noi abbiamo sempre detto che sono oltre ingiuste ad essere ingiuste per la cittadinanza, per i pendolari, per la cittadinanza, sono illegittime. Tra l'altro siamo stati costretti poi a rivolgersi anche alla magistratura, anche alla procura della Repubblica dove abbiamo chiesto il sequestro dei parchimetri, siamo ancora in attesa e ci siamo rivolti puntualmente presso il giudice di pace. Non è solo una vittoria ma fino adesso sono sei o sette i dispositivi delle sentenze che sono state emesse dal giudice di pace. Le motivazioni della sentenza non sono ancora note. È chiaro però che partiti e movimenti che lottano contro gli stagli a pagamento in città hanno un unico obiettivo, lo smantellamento del sistema di strisce blu della AG Mobilità. Il giudice di pace ha accolto il nostro ricorso che riguardava la multa fatta ad un disabile il quale si era rivolto al comune chiedendo l'annullamento del verbale in autotutela. Il dirigente aveva accolto la sua istanza ed aveva ordinato al comune di Sernia di annullare i verbali ai disabili. Bene, il comune di Sernia ha continuato a mandare i verbali ai disabili. puntualmente c'è questa gravissima cosa che si verifica che il comune da un lato ha detto e accoglie le istanze di autotutela per i verbali che vengono elevati a carico dei disabili e lo stesso comune di Sernia poi continua a mandare i verbali a casa dei disabili. E' una cosa clamorosa. Il giudice di pace ha messo la parola fine, ci ha dato ragione, ha annullato il verbale ed ha condannato il comune. Prevenire i tumori attraverso visite senologiche e ginecologiche. La Lilt presenta la campagna Nastro Rosa, visite gratuite negli ospedali Santimotio di Termoli e il Cardarelli di Campobasso. Visite senologiche e ginecologiche gratuite negli ospedali Santimotio di Termoli e Cardarelli di Campobasso. La Lilt dà il via alla campagna Nastro Rosa. L'iniziativa punta a fornire un servizio soprattutto alle donne che rimangono fuori dalle fasce dello screening regionale, come spiegato dalla presidente della Lega Italiana Tumori, Carmela Franchella. La Lilt scende in campo con la campagna Lilt for Women, organizzando una serie di eventi e di iniziative dedicate alla prevenzione di questo tumore. Purtroppo una donna su 8 ammala di questa malattia e in questo periodo di lockdown si è registrato un notevole calo della partecipazione agli screening. Gli screening sono la prevenzione secondaria per questa patologia e sono estremamente importanti perché raggiungere, individuare un tumore quando è molto piccolo significa dare una speranza di completa guarigione alla donna. Gli accertamenti potranno essere effettuati negli ambulatori dell'ospedale di Termoli nei giorni 14, 18 e 25 ottobre, mentre sono stati indicati i giorni del 12 e 15 ottobre per le visite organizzate al Cardarelli di Campobasso. Per questo periodo la Lilt ha predisposto alcuni ambulatori per delle visite gratuite, serologiche e ginecologiche negli ospedali di Campobasso e negli ospedali di Termoli e grazie anche alla disponibilità da parte della Direzione Generale a poter realizzare queste visite nei propri ambulatori. Non sarà possibile accogliere tutte le richieste per cui abbiamo predisposto un servizio di prenotazione online. Sarà sufficiente iscriversi attraverso il sito all'indirizzo legatumoricb.it per le persone che hanno difficoltà è possibile comunque chiamare in segreteria al numero 0875 71 40 08 troveranno un volontario che li aiuterà a comunque effettuare una prenotazione informatizzata. La Lilt presenterà inoltre eventi e iniziative anche in vari centri del Basso Molise Palata, San Martino in Pensilis e Larino anche in questo caso gli interessati possono prenotare la visita sul sito della Lega Italiana Lotta ai Tumori. Bene, adesso diamo invece uno sguardo alle previsioni del tempo. Previsioni del tempo per giovedì 8 ottobre sul Molise tempo in graduale miglioramento venti moderati da nord-ovest mare molto mosso con temperature in lieve ripresa vediamone nel dettaglio Campobasso minima 10, massima 16 gradi Sernia minima 12, massima 18 gradi Termoli minima 20, massima 22 gradi Venafro minima 13, massima 17 gradi Bene, il momento dello sport lo sapete però ci vediamo per questo tra un istante E allora il tecnico Mirko Cudini coccola il numero 10 del Campobasso Vittorio Esposito si è calato nella parte, ha detto ce lo teniamo stretto intanto la squadra è al lavoro per il match contro il Castelfidardo Seduta singola, allenamento in palestra questa mattina per il Campobasso sgambature in famiglia e prime indicazioni sull'11 che domenica dovrà affrontare il Castelfidardo Domenica andiamo su un campo difficile terreno difficile e anche con pagine difficile perché una squadra che si deve salvare sicuramente sarà forse qualcosa di diverso rispetto all'Agnonese quindi però ogni partita va affrontata nel migliore di modi il gruppo sta bene la squadra è in fiducia quindi dobbiamo lavorare su noi stessi in questo momento Cudini dunque non si fida servirà un lupo da battaglia per centrare la terza vittoria consecutiva disponibilità e sacrificio da parte di tutti così si vincono le partite e in questa direzione si è calato completamente nella parte vittorio esposito gol assist ma anche tanto sacrificio nella fase di non possesso palla ci interessava avere un regista esterno per cui invece che in mezzo al campo ci interessava avere un regista esterno in questo caso siamo riusciti a trovare vittorio siamo contenti di quello che abbiamo preso siamo contenti del suo atteggiamento perché si è calato benissimo in una realtà dove ha grossi stimoli e quindi ce lo teniamo ben stretto e siamo contenti di aver fatto questa scelta A Castelfidardo non sono previste novità nell'undici titolare anche se la profondità della rosa permette al tecnico di poter schierare sempre la migliore formazione Sforzini, Di Dominic Antonio, Zammarchi solo per citarne alcuni rappresentano delle alternative di grande valore Siamo una rosa importante con tanti giocatori anche chi sta in panchina che quando entra ti può fare sempre la differenza giocatori bravi, anche giovani molto bravi siamo un bel gruppo puntiamo sempre a fare tanti gol Ed ora il vasto Girardi dopo il 2-2 contro il Porto Sant'Elpidio parla l'allenatore Fabio Prosperi ci godiamo questi quattro punti in classifica e pensiamo ovviamente al prossimo confronto Prova amarezza perché perché era una partita ormai andata in porto però bisogna dare merito agli avversari che comunque ci hanno creduto hanno fatto anche un bel gol noi abbiamo fatto dei piccoli errori di gioventù di esperienza che però ripeto ci stanno in un percorso di crescita di una squadra nuova una squadra giovanissima ci stanno e bisogna insomma bisogna prenderne atto e continuare a lavorare sì sicuramente è un buon inizio ma non è tanto i punti anche le prestazioni mi sono piaciute anche oggi con GiaSquara ha fatto partita ha creato tanto è normale potremmo averne sei ma calcio è anche questo quindi bisogna andare avanti probabilmente quattro punti in inizio stagione non ci li dava nessuno per il momento ci li teniamo e continuiamo a lavorare e adesso invece vediamo la pallacanestro la pallacanestro di serie A1 femminile questi sono i match in programma per la seconda giornata Battipaglia-Schio Empoli-Broni Lucca-Sesto-San Giovanni San Martino di Lupari-Dinamo-Sassari Venezia-Costa-Masnaga Vigarano-Lamolisana-Magnolia Virtus-Bologna-Ragusa C'era anche l'esperto tecnico perugino dell'Active Network David Ceppi sabato al Clinic Città di Campobassa su analogie e differenze tra futsal e basket David Ceppi tra i coach di rilievo di questo clinic ma direi anche del quadrangolare organizzato dal CUS Molise ovviamente il tutto in tempo di Covid quindi con particolari attenzioni Sì, innanzitutto sono molto felice di essere qui sono onorato perché stare con allenatori di questo livello coach Capobianco coach Scarpitti insomma per me è un grande onore spero di poter dare il mio contributo e che insomma la giornata possa essere interessante Per quanto riguarda il campionato come lo vedi con queste limitazioni e con tantissime prescrizioni? Lo vedo pieno di incognite perché sappiamo perfettamente quello che sta succedendo chiaramente ci coinvolge in prima persona ci ha coinvolto già dall'inizio degli allenamenti con i test che sono obbligatori con il protocollo che va rispettato io credo che sia certamente una responsabilità individuale ma purtroppo si può incappare sempre in qualche piccolo problema speriamo di arrivare in fondo alla stagione al meglio Qual è l'obiettivo tuo e dei tuoi ragazzi? Abbiamo costruito una squadra per cercare di poter stare a ridosso delle prime è chiaro che nel mio girone l'Olympus ha fatto un roster molto importante quindi lo metterei proprio come favorita principale ma Ciampino Italpo il Cagliari 360 insomma sono tutte squadre molto molto importanti noi stiamo lavorando abbiamo rinnovato poco sinceramente cercando di tenere diciamo l'ossatura della scorsa stagione sono contento del gruppo che ho sinceramente dobbiamo ancora crescere molto ultima cosa David visto anche quello che sta accadendo in serie A con alcune squadre ovviamente ci sono delle modalità diverse anche di controllo per quanto riguarda il calcio a 5 di insomma rispetto al calcio ad 11 ma ecco la paura speriamo che ciò non accada e che si possa rifermare tutto beh questa è una possibilità purtroppo bisogna ne avrà tra le possibilità credo che in questo senso ci vogliano delle regole ben precise ben chiare nel caso dovesse accadere qualcosa diciamo del genere di modo che ci si possa regolare e poter ripartire prima possibile e allora è tutto termina questa edizione del nostro telegiornale l'informazione torna in diretta questa sera alle 19.30 grazie per averci seguito arrivederci grazie per averci seguito